Pranzi gratuiti nelle scuole sul Monesi per i figli di famiglie disagiate. Riprenderà il 7 gennaio prossimo il servizio mensa nelle scuole, come stabilito dalla delibera di giunta del 4 dicembre scorso, a cui è seguita una nuova aggiudicazione dell'appalto. Nuovi criteri sono stati stabiliti dal comune per il pasto nelle menze scolastiche, secondo cui le tariffe saranno applicate a secondare il reddito che sarà dichiarato. Saranno eseguiti a pagamento le servizio e le famiglie il cui reddito non supera 5.956 euro, mentre da 5.956 a 8.000 sarà applicato il 60% del costo pieno previsto per il pasto unitario che è pari a 4,58 euro. Da 8.000 a 10.000 euro di reddito i genitori sborseranno il 75%, da 10.000 euro a 12.000 si pagherà l'85%, mentre per le famiglie che superano i 12.000 euro di reddito corrisponderà il prezzo intero, come anche per gli studenti non residenti a Sulmona e per le famiglie che non presentano il modello ISE. Una scelta dell'assessorato alle politiche sociali fatta in nome dell'equa ripartizione dei costi. Dal 4 gennaio, fanno sapere da Palazzo di Città, riprenderà negli uffici economato l'acquisto e la distribuzione dei buoni mensa per la fruizione. Blocchetto da 25 per le tariffe agevolate, l'esenzione del pagamento e da 10 per tariffa piena. Per poter usufruire dell'esenzione, in quanto rotati i requisiti richiesti, si può chiedere l'agevolazione economica presentando il modello di domanda disponibile nei locali del primo settore dell'ex caserma Pace, corredato dalla certificazione ISE utile da consegnare entro il 15 gennaio prossimo tramite ufficio protocollo comunale per evitare l'applicazione della tariffa massima.